Se mi permettete presento, perché i gruppi di prima si sono autopresentati e mi hanno tolto il piacere di fare le presentazioni. Però hanno avuto ragione perché sono dei grandi gruppi che hanno tanto da dare, delle cose nuove, dei mix, degli strumenti diversi come quelli che abbiamo visto fino adesso, che non è facile vedere in giro, la corna musa, il violino, il flauto traverso, tutti insieme che suonano delle musiche moderne, è una bella prova. E questa è la dimostrazione che i generi musicali che vengono fuori da questa rassegna sono creativi, hanno una grande forza, come quelli che poi ci apprestiamo ad ascoltare adesso. Adesso giochiamo un po' in casa, perché il trio Fabio, Roby, Maccio, l'abbiamo già visto e sappiamo cosa vuol dire. Non sapete cosa state facendo. E quindi è con piacere che vi presento i Big Yellow Taxi. Grazie mille. 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 Grazie a tutti 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 Grazie a tutti